Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pumpkin cake con funghi, piselli e speck. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, latte, olio di semi di girasole, lievito per torte salate, funghi, piselli, speck, asiago, aglio, olio, burro, sale e pepe, noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. togliamo l'aglio dal boccale. Aggiungiamo i funghi, i piselli, il sale, il pepe, la noce moscata. Ed azioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. rimuovere il liquido in eccesso e mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere nel boccale il latte, l'olio, di semi, le uova, il parmigiano, il pecorino ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Aggiungere la farina, il lievito istantaneo per torte salate, e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Aggiungere i funghi con i piselli messi da parte. lo speck. E la siago. ed azioniamo il bimbi per un minuto, anti-orario, velocità 2. Il composto è pronto, versiamolo in uno stampo da plum cake da 28 x 10 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Plum cake con funghi, piselli e speck. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.